Ci scrivono in tantissimi da casa, quindi vi chiedo davvero di essere sintetici nelle risposte. E giro, cioè passo attraverso Jacopo Fo, ma in realtà la mail è rivolta a loro. Però secondo me è utile che risponda Jacopo Fo. Leggo, Livio ci scrive. Cosa cerchiamo tanto un miliardo di qua, un miliardo di là per l'Imu, l'Iva? Quando sono stati condonati 98 miliardi alle slot machine. Vergognatevi, credete che la gente sia scema? Chiedete alla gente se preferisce pagare l'Imu o che paghi chi voi non avete mai fatto pagare. Per favore, chiedete adesso a nome di tutti perché le slot machine, i proprietari delle slot machine non hanno pagato. E ci dice fatelo in diretta, questo è Livio da Gorizia. Prego. Una domanda che vorrei sapere anch'io. Io quello che posso dire è che io ho rinunciato a capire questo meccanismo qua. Io sono assolutamente anche contrario alle persone che protestano perché c'è da iniziare a dire che esiste un'altra Italia che ha smesso anche di protestare perché tanto non serve niente e che ci stiamo rimboccando le maniche per parare i buchi. Non ti piace questo modo di abitare? Creane un altro. Noi stiamo costruendo una città verde in mezzo ai boschi con sistemi di gruppo d'acquisto. di questo e quell'altro. Attenzione, ma anche i sindacati. L'acamusso mi dovrebbe spiegare un giorno perché non le importa niente che gli operai tedeschi abbiano un potere d'acquisto del 30% di più perché partecipano a mega gruppi d'acquisto e hanno sconti su tutto e dall'assicurazione alle scarpe a qualunque altra cosa. È una cosa che abbiamo inventato noi italiani. La COP è nata come gruppo d'acquisto degli operai e dei contadini. Perché in questo momento non ci si occupa di consociare i contratti dell'assicurazione di milioni di operai e di impiegati? Stiamo discutendo per il cuneo fiscale, forse avremo 300 euro, forse 50, forse 100. Ma parliamo di sconti di 200 euro sull'assicurazione, parliamo di garanzie diverse nel rapporto con la banca, con la telefonia. Perché non esiste il telefono cellulare come gruppo d'acquisto del sindacato? Perché la CGL non gliene frega più niente di quello che ha fatto l'Italia come oggi? Perché senza il movimento delle cooperative, senza la consociazione dei consumi, l'Italia non sarebbe quella che è attualmente. Sarebbe molto peggio. 98 miliardi condonati perché? È una battuta, Meloni. In realtà noi stiamo intervenendo, l'abbiamo appena fatto in un provvedimento ora che è stato approvato la scuola settimana alla Camera, per controllare la dipendenza dal gioco. Quindi si sta agendo su questo, quei provvedimenti legislativi. Quindi questo è un tema che ha l'attenzione nel Parlamento. Controllare la dipendenza dal gioco è il tema? No. Controllare la dipendenza dal gioco è intervenire per frenare tutte le forme di propaganda, di pubblicità, di capacità da parte delle associazioni. Quindi l'intervento legislativo c'è stato... Ma lo Stato prende i soldi da quello? Non sarà una grande ipocrisia? Lo Stato prende i soldi anche da le sigarette. Lo Stato controlla dei fenomeni che sono altrimenti destinati all'illegalità e noi dobbiamo evitare che questi fenomeni diventino un danno per la popolazione, come stanno diventando, perché stanno crescendo. Perché sono stati condonati 98 miliardi? Io adesso le dico, nel merito, noi stiamo cercando di agire, lo ha fatto il Parlamento, per controllare la dipendenza dal gioco e per evitare che chi svolge queste attività possa agire... Senatore Vittobal, ma perché sono stati condonati 98 miliardi? Io le dico a questa cosa, me lo chiedo anch'io, è vero, non ho avuto ancora tempo di fare una ricerca, è vero che avete condonato 98 miliardi di euro a questi qua? Eh sì, è vero, allora dovete spiegarlo, perché se no siamo alla fantascienza, stiamo discutendo, c'è l'IVA, scusate, l'IVA e l'IMU insieme sono 10 miliardi, ne hanno condonati 98. Allora chiedo alla redazione se facciamo in tempo, intanto anche che poi salutiamo Mirta Merlino, di avere il dato preciso e il giorno di questa vicenda, della quale abbiamo anche parlato in studio, quindi non dovrebbe essere difficile recuperare il dato. Comunque io rispondo con molta tranquillità, ignoro i termini della questione, nell'eventualità in cui ciò sia realmente accaduto, è probabile che sia accaduto, e non vi siano delle ragioni particolari, personalmente condivido quello che dice il suo telespettatore. Io credo che sia sostituita una tassa o si sia consentito di pagare una multa per non avere evaso nel tempo una somma importante, dopodiché c'è anche la Corte Costituzionale, mi viene adesso in mente, che qualche giorno fa, qualche settimana fa, ci ha fatto sapere che a copertura della prima rata del LIMU era prevista anche una quota che arrivava da questo condono per le slot machine. Questa cifra non è arrivata, quindi sarà senza copertura LIMU, prima rata. No, tanto per capire qual è il paese italiano. Il PD ha presentato sulla ludopatia, cioè sulla dipendenza da gioco, dei provvedimenti in Parlamento, io credo che... E quindi mi sembra un'ottima strada a condonare chi del gioco... Esatto, cioè è un po'... No, no, probabilmente una città si copre meglio che una tassa che non si recupera, però... No, non è un po'... No, non è un po'...